Entrano nel vivo i festeggiamenti del santo compatrono di Acireale, Sebastiano, giovane martire amatissimo dagli accesi. Tra due domeniche esatte, infatti, sarà il 20 gennaio, il giorno del santo. Con l'inizio del nuovo anno e dunque del mese di gennaio, come tradizione, si è dato avvio ai festeggiamenti. Da ieri, invece, è iniziata l'esposizione e venerazione delle sacre reliquie in varie chiese ed istituti della città, oggi nella parrocchia di Santa Maria la Scala, domani in quella di Scilichenti e così via. Dal 16 poi sarà già triduo solenne, che quest'anno vedrà la presenza di Monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari, che affronterà il tema San Sebastiano, difensore della fede. Non va dimenticato, infatti, che questo è stato decretato l'anno della fede dalla Chiesa Cattolica. Il canonico Don Vincenzo Castiglione ha avuto modo di affermare che San Sebastiano appassiona il cuore di tante persone e lo fa attraverso il tempo e i secoli, perché gli è riconosciuto il coraggio di deporre la spada per indossare vesti di luce e giustizia. Ecco perché la fede è al centro del messaggio della festa 2013, festa che quest'anno, ed eccezionalmente per quest'anno, vivrà un percorso della processione diverso. Essendo il 20 gennaio giornata domenicale e con i tagli alle ferrovie dello Stato, è stato obbligatorio spostare il momento della rievocazione storica della benedizione alle reclute all'ex stazione di Piazza Agostino Pennisi. Quest'anno, e ribadiamo solo per quest'anno, sarà alle 18.15. La processione così vedrà il santo prima nel quartiere Mandorle, poi in Piazza Agostino Pennisi. Grazie. Grazie.